Ghi fa Peppono, sono... Buongiorno, sono Peppa Pig! Prova anche il biscotto al cacao e con crema di latte e scopri su Plasmon.it come garantiamo la qualità dei nostri prodotti con oasi nella crescita. Plasmon! I credieri hanno risolto il puzzle! E' un pezzo spazio! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! E' uno squalo! Non devi sottovalutare mai il tuo avversario! No, no! Franca, hai sbagliato il luogo! Benson non vive nel lago della savana! Vi è cambiato ad usare i costumi e i bagni? Incredibile! Hanno risolto il puzzle! E' uno squalo! Ehi, attenti, il palle di fango! Schiacciala! E tu che ne dici? A te piacciono i giochi di prestigio? Grande! E deve ancora arrivare al meglio! Schiacciala! Gidi, complimenti! Un'esecuzione perfetta! Cerco di fare del mio meglio! E ci riesci benissimo! Sei proprio ok! Ragazzi, voi mi confondete! Forza, Gidi! Vai con l'accordo! Hai un'aria effervescente! Sono stata a fare un giro su un cammello! Che avventura travolgente! Che esperienza eccitante! Ma poi, sapete, sono arrivati i 40 ladroni e... E cosa è successo? Il sogno è finito! Visto che entusiasmo! Tra un po' ballano anche i muri! Fatissimo! Ma dopo lì vanno... È chiaro che ci vuole un altro mito! Un genio! E vai! Vero Cassetta! Brava! Vero Cassetta! Tra tutte le chiave, bianca neve e i sette nani, ce ne vedo la sono mitiche! Come non vale! Devi sceglierne una! Per me sta pensando a un'opera! Vivono negli alveari! Dove vivono gli insetti pazzerelli? Dentro un computer! In un piatto di spaghetti? O in una casetta sul davanzale di Ernie? In una casetta! Vivono sul davanzale di Ernie!